passi 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 stai chino morto dove sei io e i tuoi passi io sto sopra sopra nella casa alta il lato 1 com'è la situazione dove è un'altra terra dove è sul tetto della casa ah è lì terra l'amico eh sì eh non lo vedo morti 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 porco bestia porco bestia abbiamo fatti fuori tutti oggi ho visto un po' lo sbaglio passi dietro passi dietro eccolo no e no te fricoli c'è un altro questo vabbè vengo a te picchio qui giuna messere panettone si ma qua dietro stiamo scoperti del loco eh scendiamo andiamocene via terra terra dov'è qua 49 uh un colpo gli mancava no gli ho fatto 50 tu l'hai raccato sotto c'è gente pure eh oh sotto l'è l'ho con lo lupo 50 li ho preso buono ne ho preso uno giù 50 sai sta andando a prendere lo scudone qua ma ce n'è uno qui però stiamo qua scolline eccolo no no ci stanno e spara visto da dietro qualcuno sta andando a sparare da me cecchina non stanno capisco da me cecchina ne sai come sta andando da tutti da tutti i lati sta e ci sparano da dietro eccoli sui deli sull'opizzo stanno eh ma si sparano con altri bella stiamo in una posizione di merda stiamo in una posizione di merda io ho proprio uso l'impulso eh te lo dico e per andare dove? via apriamo sta macchina quelli di delivi adesso scendono eh apriamo la macchina eh eh cambiamo proprio zona si 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 secondo me è scarica del benzina aspetta ma la macchina ma la macchina aspetta ciao ciao proprio dal lato opposto stuta sta radio via via dal lato opposto eh stasse fricolano si noi arriviamo alla fine facciamoli avvolto alla fine andiamo vai su andiamo a stretto entriamo dentro a stretto andiamo dall'altra riva di stretto andiamo dall'altra riva di stretto ma vediamo dove queste fricolano eh è la casa qua ti vedi? si si toccoci lupiglio toccoci lupiglio niente da è appiato facciamola abbiamo intorno a macchina ci sei? qua si dobbiamo andare sai ma tu vuoi scendere a piedi? sei sotto no sono sceso dalla macchina finita la stagionante passi? passi da me? mi livello dobbiamo fare? forse qui entra è il culo? si atterra uno ah c'è un altro un colpo un gatto d'amico buonissimo quante cazzo? oh però sono rimasto senza ti dà uno scudone? ti dà uno scudone? forse fricolano fra ditti? eh ora dobbiamo andare forse aspetta 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 mi ricordo un po' di uno ok ci siamo noi qua stiamo perfetti credo cioè non perfettissimi però stiamo dietro al tetto qua? si incontrano a breve credo? dimmi dove sono eccoli eccoli vediamo se faccio qualcosa si stanno incontrando? si fightano? terra? dobbiamo andare? quello a terra è atterrato 2 conto tu eh sei sicuro di sta cosa? che hai fatto? come hai fatto? gg? eh tutti a terra stavano ah tutti? si ma hai preso la corona? no mi chiamano la corona gli ultimi due erano gli ultimi due che avevano corona no eh vabbè non ci ho fatto adesso grazie grazie grazie